buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale io sono alfrede 73 e oggi voglio condividere con voi la realizzazione di pacchi batterie a litio utilizzando moduli bms un bms o battery management system è un modulo elettronico che consente di gestire in maniera efficiente e sicura sia la carica che la scarica di una batteria litio monitorando costantemente la corrente fornita dalla batteria e assorbita in sede di ricarica per evitare problemi di surriscaldamento e di esplosione alla batteria stessa il bms infatti assicura una protezione da sovraccarica sovracorrente cortocircuito e sovrascarica da parte del carico collegato al nostro pacco batteria pertanto questo tipo di circuiti è estremamente necessario per salvaguardare la vita del nostro pacco batteria a litio batteria a litio che è tipicamente una 18.650 che prende il suo nome dalle sue misure e che solitamente ha una capacità in termini di ampere ora dell'ordine di 2 3 ampere al massimo diffidate delle batterie con capacità superiori una batteria a litio per esempio una panasonic ncr 18.650 ha una capacità tipica di 3.250 mili ampere e una tensione nominale di 3,6 volt si ricarica con un ciclo corrente costante voltaggio costante e ad una corrente di 1625 mili ampere cioè pari a 0,5 volte la sua capacità con una tensione di 4,2 volt il tempo di ricarica sarà di circa quattro ore osservando la curva di ricarica per queste batterie notiamo che nella fase iniziale occorre applicare una corrente non superiore a 0,5 volte la capacità nel nostro caso 1625 mili ampere massimi quando la cella avrà raggiunto i 4,2 volt progressivamente andrà ridotta la corrente assorbita fino a staccare completamente il caricatore e questo è il compito del bms pertanto applicando 4,2 volt all'ingresso del bms che fa capo alla batteria è possibile ricaricare correttamente una batteria a litio solo in questo modo potremo rispettare il ciclo di vita della batteria alla capacità utilizzabile da una batteria carica dipende altresì dalla temperatura minore sarà la temperatura esterna e minore sarà la capacità che la batteria stessa è in grado di fornire inoltre maggiore sarà la corrente che cerchiamo di prelevare dalla nostra batteria carica e minore sarà la sua attenzione nominale nonché anche la capacità residua che è in grado di fornirci queste batterie che di solito hanno una tensione di 3,6 3,7 volt possono essere collegate in serie per aumentare la tensione relativa o anche in parallelo per aumentare la corrente resa disponibile al carico il collegamento in parallelo avviene collegando tra loro i poli dello stesso segno in caso di differenze la più carica si scaricherà sulla più scarica una volta bilanciate si caricheranno al massimo della corrente disponibile collegando ciascun blocco in parallelo in serie con altri blocchi potremmo ottenere dei voltaggi diversi il numero che precede la s rappresenta appunto il numero di blocchi posti in serie per ciascun pacco batterie un pacco da 12 volt sarà realizzato con tre blocchi in serie mentre uno da 24 con sette blocchi in serie e via dicendo per ragioni di sicurezza dovendo utilizzare un bms per il controllo della carica della scarica le celle in parallelo saranno di fatto considerate come un'unica cella mentre rileverà soltanto la serie per il collegamento al bms unendo le celle tra loro o in serie possiamo ottenere pacchi con tensioni e correnti disparate ad esempio un pacco 2s 1p è costituito da due celle in serie che raggiungono una tensione che va da un minimo di 7,2 volt a un massimo di 8,4 volt un pacco 3s 1p è composto da tre celle in serie e raggiunge una tensione che va dai 10,8 ai 12,6 un pacco 3s 2p comporta una stessa tensione ma con un raddoppio della capacità perché abbiamo due celle in parallelo all'interno di ciascuna serie quando si realizza un pacco batterie con delle celle aventi diversa capacità residua occorre prima poter effettuare il bilanciamento per evitare problemi di sbilanciamento e quindi di capacità di ricarica successivi in un video precedente che vi invito ad andare a vedere abbiamo visto come ribilanciare un pacco batteria di una e bike per consentire la carica massima residua per pacchi batterie con serie differenti tra loro quindi con voltaggi diversi dovremo necessariamente utilizzare dei bms diversi predisposti per ciascun tipo di serie ma bando alle ciance andiamo a realizzare un semplice pacco batterie di tipo 2s 1p da 7,2 volte minimi 8,4 massimi 3000 mAh per sostituire delle vecchie pile nickel cadmio da 7,2 volt originariamente montate su questo avvitatore bosch questa conversione è l'occasione giusta per parlare un po di pacchi batterie a litio e come realizzarli anzitutto mi procuro due batterie a litio 18.650 marca samsung da circa 2.500 mAh con questo saldatore a batteria ricaricabile vado a effettuare la saldatura dei terminali selezionando la massima potenza se vi sta piacendo questo video questo è il momento opportuno per mettere like ed iscriversi al canale per supportarmi grazie mille la saldatura di queste lamelle nichelate avviene semplicemente appoggiando i due terminali e il saldatore ad intervalli regolari produrrà una scarica che andrà a effettuare la saldatura del metallo sulla batteria per questo saldatore spot welder consiglio l'acquisto di strip nichelate aventi spessore non superiore a 0,1 millimetri per agevolare la saldatura per evitare cortocircuiti accidentali sui contatti positivi e negativi vado ad applicare questi adesivi di protezione specifici per pile 18.650 che riducono il rischio di contatto soprattutto tra il positivo ed il negativo piuttosto che saldare direttamente le due lamelle per formare la serie preferisco inserire questo interruttore termico che per sicurezza interrompe il passaggio di corrente e quindi anche la serie quando la sua temperatura supera i 45 gradi in questo modo in caso di surriscaldamento del pacco batterie per qualsiasi motivo si interromperà immediatamente la serie scongiurando così il pericolo di esplosioni o di incendi verifico con il tester l'aggiunzione della serie in corrispondenza dell'interruttore termico prima di acquistare queste strip nichelate tenete bene a mente il pacco batterie che volete realizzare perché ce ne sono di diverse forme e misure vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per acquistare i materiali utilizzati all'interno dei miei video a questo punto il mio pacco batterie dovrà ricevere necessariamente un controller bms per il controllo e il bilanciamento dello stesso se applicassimo direttamente gli 8,4 volt necessari alle due batterie in serie per ricaricarle senza bms il pacco rischierebbe di esplodere all'interno di questi moduli sono presenti diversi chip e diversi mosfet che sovrintendono a svariate funzioni possiamo avere principalmente due tipologie di bms un primo tipo che si occupa esclusivamente della protezione e un secondo modello con più chip che si occupa anche del bilanciamento delle celle la sola protezione utilizza in genere questo chip h y 21 20 destinato appunto a monitorare il pacco batteria che interrompe i due mosfet di over discharge e overcharge rispettivamente a seconda che si verifichi una condizione di sovrascarica o sovraccarica della batteria rivelata dal piedino current sensing nel modello con bilanciamento troviamo dei chip h y 22 13 che si occupano di scaricare attraverso dei piccoli mosfet le batterie che risultano sovraccariche monitorando la tensione di ciascuna quando supera i 4,2 volt il bilanciamento avviene scaricando le batterie con voltaggio in eccesso attraverso delle resistenze di bassissimo valore la quantità di mosfet presenti sul circuito stampato determina le capacità in termini di ampere gestibili dal bms in sede di scarica maggiore saranno i mosfet di potenza presenti maggiore sarà la capacità di corrente gestibile in scarica dal bms inoltre in base al pacco batterie che vogliamo realizzare dovremmo utilizzare bms diversi previsti per le varie tensioni del pacco batterie finale a partire da 1s per una singola litio da 4,2 volt 2s per due litio in serie fino ad arrivare a 5s anche a 10s per i pacchi da 36 volt nel mio caso specifico vado ad utilizzare questo bms 2s per ottenere 7,4 volt di tensione minima e una corrente massima per il carico di 8 ampere si tratta di un modulo comprensivo di bilanciamento come si può capire dalla quantità di chip e dalle resistenze di scarico da 62 ohm a questo punto non mi rimane che effettuare tutti i collegamenti al positivo e il negativo del mio pacco batterie e al pin centrale della serie nonché i collegamenti a p più e p meno per il carico e lo scarico del mio pacco batterie sul trapano collego in ingresso al bms i poli della batteria con delle semplici saldature a stagno una volta effettuate queste saldature il mio pacco batterie non è ancora pronto in quanto sui due pin p più e p meno non è presente alcuna tensione di uscita come possiamo verificare con l'ausilio di un tester nonostante che le due batterie siano cariche quindi sia presente la tensione in ingresso e questo perché questi moduli devono essere attivati quando si effettua la saldatura semplicemente collegandoli ad una tensione di ricarica di 8,4 volt senza questa procedura il nostro modulo bms non tirerà fuori alcuna tensione per dimostrare ciò collego un led all'ingresso p più p meno e vado temporaneamente a collegare la tensione di 8,4 volt a questo punto con questa attivazione del modulo il led si accende e rimarrà acceso anche dopo che avrò tolto la mia tensione di attivazione questa procedura va effettuata soltanto la prima volta per attivare il modulo a questo punto il mio modulo è pronto per essere collegato con la sua attenzione ai contatti dell'avvitatore che ho intenzione di convertire ad una batteria a litio tramite delle pinzette provvisorie collego il positivo e il negativo al carico e a questo punto è il momento della verità vediamo se tutto funziona correttamente come possiamo osservare c'è un problema di assorbimento estremo di picco del motore e il bms va in protezione ci accorgiamo di questo perché se acceleriamo leggermente il trapano sembra funzionare fino alla massima potenza questo vuol dire che il mio bms non supporta la corrente massima di spunto del motore e questo accade perché all'interno del bms è presente un chip che monitora costantemente la corrente assorbita dal carico e interrompe il mosfet di over discharge quando questa supera quella stabilità dal produttore a questo punto le strade sono due o passare ad un bms più performante con maggiori ampere ad esempio 20 ampere invece che 8 oppure semplicemente ridurre la corrente assorbita in fase di partenza dal motore per ridurre la corrente di spunto ma anche la corrente globale assorbita dal motore vado ad inserire in serie allo stesso il parallelo di due resistenze da 1 ohm 2 watt queste due resistenze da 1 ohm 2 watt poste in parallelo danno una resistenza di circa mezzo ohm posta in serie al polo negativo che va verso il motore in questo modo il motore assorbirà meno corrente di spunto e anche avrà una minore tensione di funzionamento con una impercettibile riduzione del numero dei giri riducendo l'assorbimento di corrente spero di aggirare la caratteristica di corrente di over discharge massima prevista da questo chip per misurare la nuova corrente assorbita utilizzo questo amperometro a pinza che una volta settato su dc corrente continua va resettato a vuoto prima di pinzarlo sul relativo cavo e a questo punto è il momento della verità bene a quanto pare adesso abbiamo risolto il problema del picco di assorbimento corrente si aggira sui 1,6 ampere con una caduta di 0,8 ohm sulle due resistenze in parallelo che risultano leggermente calde dovendo dissipare una potenza di 1,28 watt insieme la tensione di alimentazione del motorino con queste due resistenze sarà di 7 volt quindi molto simile a quella delle pili al nickel cadmio da cui possiamo dedurre che il modulo bms ha un output di circa 7,8 volt e quindi siamo riusciti a sostituire le originali batterie nickel cadmio di questo trapano in delle efficienti batterie al litio adesso meno rimane che rimontare il tutto ricordo che i pacchi batteria necessitano di tensioni di ricarica che sono multiple dei 4,2 volt vado a collegare un alimentatore da circa 9 volt che mi dà una corrente di ricarica di circa 1,2 ampere così come previsto dal data sheet una volta portata a termine la carica il bms interromperà la fornitura di corrente alla mia batteria questa condizione di fine carica permarrà all'interno del modulo bms e anche reinserendo la tensione la batteria non viene in nessun modo ricaricata e il mio pacco è salvaguardato ed il mio avvitatore bosch resuscitato grazie a questa batteria a litio è pronto per essere utilizzato e per tornare a nuova vita e per finire come ultimo suggerimento per fornire queste esatte tensioni per la ricarica delle batterie a litio potete utilizzare dei moduli step up step down converter regolabili o ancora meglio utilizzare dei moduli con ingresso usb type c che possono essere settati in base al numero di elementi poste in serie sul vostro pacco batterie bene amici spero che questa occasione di conversione di un vecchio avvitatore bosch da nickel cadmio a batteria a litio vi sia stata utile per capire qualcosa in più sui pacchi batterie a litio e sui relativi bms a meno rimane che invitarvi a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video e ovviamente a darvi appuntamento alla prossima volta